Amat, che spettacolo! Dal teatro alla danza fino a musica e circo contemporaneo saranno 500 le performance che coinvolgeranno i teatri di 79 comuni marchigiani nella stagione 2023-2024. 150 gli artisti marchigiani coinvolti ad arricchire dal territorio alla dimensione europea una maxi-offerta culturale presentata in Regione Marche. Una stagione sospinta da numeri di confortante risposta del pubblico. Sono infatti già 130 mila i biglietti venduti per un incremento del 25%. Innanzitutto portiamo 500 spettacoli e tocchiamo veramente tutte le marche, tutti i territori, soprattutto cercando di dare voce ai nostri teatri che sono dei luoghi meravigliosi e soprattutto facciamo lavorare oltre 150 artisti marchigiani. Questo è un altro dato importante e significativo anche perché abbiamo delle eccellenze professionali nel nostro territorio che devono essere assolutamente valorizzate. Portiamo inoltre delle residenze artistiche, anche questo è un altro fiore all'occhiello perché diamo la possibilità a tanti artisti di poter approvare le loro prime proprio nei nostri bellissimi teatri. Questo avvio di stagione che devo dire ci ha già commosso per l'attenzione del pubblico, campagne abbonamenti trionfali, un dato medio regionale del 25% con punte di 40-45% in più. Significa che c'è voglia non solo di avere un'esperienza teatrale ma anche di averla prolungata, di fare un viaggio proprio come quello che noi costruiamo nelle stagioni teatrali. Oltre 130 mila i biglietti già venduti ad oggi, quindi insomma davvero numeri impressionanti ma che testimoniano l'affezione dei marchigiani quanti vivono questo territorio per i loro luoghi teatrali. Il teatro è un documento del 1800, è il degno ornamento di ogni culta città. Ogni città vede nel teatro un luogo in cui è possibile emozionarsi, riflettere, per questo abbiamo scelto quest'anno uno slogan molto semplice, ricorda di emozionarti e vieni a teatro, c'è qualcosa di bello che ti aspetta. Tanti progetti di varia natura tutti destinati a rispondere alle esigenze di un territorio anche nelle sue eccellenze, penso ad esempio a Pesaro Capitale Italiana della Cultura che è un progetto che stiamo seguendo in primissima linea. L'obiettivo adesso nella prossima stagione è quello anche di decontestualizzare come ho già detto più volte l'attività teatrale, cioè uscire fuori dal luogo canonico del teatro, portarlo di alla venda sui territori in ambientazioni sceniche molto belle che sono il Tau, teatri antichi uniti, ma soprattutto abbiamo paesaggi palcoscenici naturali molto importanti su cui vorremmo lavorare la prossima estate come abbiamo fatto questo tentativo quest'anno che è molto apprezzato e molto bello, che è stato Marche Grandi Storie dove siamo andati in tre località segnate anche dagli eventi tragici dell'Uione tipo Cantiano, il terremoto tipo Ad Ascoli e siamo stati al Torrentino al Castello dell'Arancia con la compagnia dei Fogli, abbiamo fatto veramente il pieno su tutti e quest'anno stiamo rispondendo a questo bando ministeriale per gli oggetti speciali e pensiamo anche di interessare le province di Ancona e di fermo soprattutto.